La sottoscrizione del contratto di project financing tra Varese e Risorse e Silea ha avviato l'iter per la realizzazione del terrescaldamento tra Lecco, Val Madrera e Malgrate. Il progetto però continua a dividere gli ambientalisti tra chi lo vede come un'importante opportunità per rendere più verde il territorio e chi invece esprime perplessità. Dice no al progetto il circolo Ilaria Alpi, due i motivi. Il terrescaldamento, dice il presidente Roberto Fumagalli, sarà legato all'incenerimento dei rifiuti fino al 2032, ovvero avremo ancora dieci anni di funzionamento di un forno che invece potrebbe da subito chiudere una delle due linee esistenti, considerando la progressiva diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti in provincia di Lecco. Non è poi possibile prevedere quante utenze si allacceranno alla rete di teleriscaldamento, la posizione di Fumagalli, e chi lo farà rimarrà vincolato quando invece la priorità deve essere indirizzata alla riduzione dei consumi di energia e all'utilizzo di rinnovabili autoprodotte. Il circolo chiede che si disattivi da subito una linea dell'inceneritore, mentre per la seconda che si programmi la dismissione entro al massimo 5 anni. Favorevole al teleriscaldamento invece ambientalmente, parte della maggioranza che governa il capoluogo, che ha realizzato un dossier per fare chiarezza sull'opera e spiegare il lavoro politico svolto per migliorarne le caratteristiche green. Diversi aspetti sul piano ambientale sono stati cambiati dal progetto iniziale, illustra ambientalmente. La vita del forno e del teleriscaldamento saranno separate dopo il 2032, anno in cui scadrà l'autorizzazione a incenerire. Un piano chiaro di riduzione delle emissioni di CO2 condizionerà alla scelta di determinate fonti energetiche che potranno alimentare il teleriscaldamento lungo tutta la durata della concessione 33 anni. Ora, sottolinea ambientalmente, la vera richiesta a chi realizzerà l'opera è di ridurre al minimo i disagi per i cittadini lecchesi in termini di viabilità. Dicono sì al teleriscaldamento anche i circoli di legambiente della provincia di Lecco. Le condizioni poste dai comuni, frutto anche di nostre sollecitazioni, sono state recepite, spiegano. Positivo in particolare il giudizio sul piano di decarbonizzazione e sulla possibilità di alimentare l'impianto con termico solare e pompe di calore.